Benvenuti, cari spettatori, a un nuovo capitolo di Misteri e Decisioni Controverse. Dimitri Fricano, un assassino dal passato oscuro, la cui libertà è stata concessa nonostante il peso delle sue azioni. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi aggiornamenti. Dimitri Fricano, il killer di Erika Preti, è ora ai domiciliari a causa di un motivo sorprendente, obesità e tabagismo. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha concesso questa singolare agevolazione in base alle condizioni di salute di Fricano. Pesando inizialmente 120 chili all'ingresso in carcere, ha aggiunto altri 80 chili, rendendolo un grande obeso a rischio di vita dietro le sbarre. Il suo vizio del fumo, con un consumo di circa 100 sigarette al giorno, ha ulteriormente complicato la sua situazione. Il carcere torinese delle vallette non può nemmeno fornire pasti ipocalorici adeguati. Quindi, giovedì scorso, il killer è tornato a casa dei genitori, a soli due chilometri dal luogo in cui ha commesso l'orribile crimine. Cosa pensate di questa decisione? È giusto questa scarcerazione? Scrivetelo nei commenti. La decisione del Tribunale è supportata dalla giustificazione che Fricano è incapace di soddisfare autonomamente le sue necessità quotidiane a causa dell'obesità e di problemi neurologici. La sua presunta colpa è il riconoscimento della giusta pena, ma con condizioni detentive inadeguate. La famiglia della vittima, Erika Preti, reagisce con rabbia e dolore, definendo la decisione vergognosa. Il padre, Fabrizio Preti, esprime il suo sconforto, sottolineando che sei anni di carcere sono troppo pochi per un crimine così atroce. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi aggiornamenti. In questo intricato labirinto di giustizia e morale, la storia di Dimitri Fricano ci pone di fronte a domande difficili e a una discussione su cosa sia giusto e adeguato in situazioni così estreme.